Anna De Rosa come attrice, Natascia Medaglia nel ruolo di danzatrice, di ballerina e poi Danila Savoldi musicista che peraltro, cosa importante da sottolineare, ha composto le musiche originali sul testo. E' dedicato a Diamante Medaglia Faini, poetessa e letterata del Settecento, nata e cresciuta in Valle Sabbia, lo spettacolo che andrà in scena giovedì sera alle 21 all'auditorium San Barnaba di Corso Magenta. In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, un dramma in atto unico ispirato ad un saggio di Rebecca Mesbarger sul ruolo delle donne nell'Italia del XVIII secolo che vede protagonista l'attrice Anna De Rosa, la quale interpreta la nobile poetessa del Settecento e insieme la donna del nostro tempo. Un omaggio ad una donna che si è battuta per i diritti delle altre donne, rivalutata non come un'icona ma come una presenza individualmente e socialmente utile. Sappiamo che è un problema veramente importante della nostra società, va affrontato con serietà ma va affrontato anche sapendo che all'interno in particolar modo delle istituzioni brisciane e delle associazioni brisciane c'è chi pensa e chi vuole aiutare queste donne. Un modo per ricordare che anche la negazione della cultura è una forma di violenza sulle donne perché le priva della loro dignità, un messaggio di speranza per tutte le donne che anche nel nostro tempo e nelle nostre comunità vivono situazioni di emarginazione, solitudine e violenza. Forse per errori non solo da parte della donna ma anche da altri che hanno sfruttato alcuni aspetti della donna che non sono in una visione olistica della persona.